Ciao ragazzi, ciao a tutti, ciao a tutti, buona serata, sono le 3 e mezza 3 e 40 Allora, ho ricevuto complimenti dai più grandi videomaker italiani Non faccio nomi Posso dire che si parla... No, non posso dirlo Non posso dirlo di cosa parlo Perché se no è facilmente intuibile Comunque voglio cambiare format Sono contento comunque di questi complimenti Ma nonostante questo Voglio cambiare format Non posso fare nomi per privacy Ho ricevuto email, lettere di... Proposte di live Insomma, ho ricevuto... Sono cose che mi fanno piacere Però... Vorrei cambiare format Sono indeciso Sono... Sono... Perché a volte vedo che comunque sia ho cambiato genere E anche queste persone mi dicono Ma te eri meglio prima Eri meglio quando eri il vero pandino club Cioè io ho stravolto molto l'immagine del canale Forse l'ho reso un canale più pregiato Più una primula rossa Un fiore di loto Però... Quando era un basilico appassito Quando ero alla prima army Ho fatto i miracoli Ho fatto i miracoli con le mie mani Adesso ho una redazione Ho persone che lavorano con me Ho cambiato il mondo Ho cambiato tutto in poco tempo E... C'è una grande sorpresa Che arriverà la prossima settimana Non posso dire... Non posso fare nomi A volte penso di dirla Poi dopo cambio idea E va bene così Comunque... Prossima settimana Non questa che viene E quella dopo Attenzione tutti Ciao Ciao